Un saluto e ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per la nuova settimana il tempo sarà dinamico sul nostro territorio per l'ingresso nuovamente di correnti umide che apporteranno nuovi fenomeni, specie da metà settimana. Le zone interessate maggiormente saranno quelle del centro nord con anche un conseguente calo termico. Questa ovviamente è una tendenza da confermare per cui per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sul sito e l'app gratuita di Trebi Meteo.